una buona giornata piccolo video più che altro anche per fare una riflessione riflessione per coloro che giocano in un determinato modo per me sbagliato sbagliato perché si deve pensare a recupero cosa voglio dire ragazzi è uscito il 42 43 74 dal metodo napoli venezia il metodo condiviso noi lo attendevamo sulle due ruote di calcolo non è uscito sulle due ruote di calcolo però a primo colpo ha dato il terno 42 43 74 l'ha dato subito al primo colpo su tutte l'interno l'ha garantito in cinquina ora perché sto facendo questo video per farvi riflettere dovete giocare usando la testa pensando a recupero guardate questa è la bolla di amici e dispiace vedere queste cose qua guardate poteva fare uno scempio di vincere perché giustamente ha giocato solo su napoli venezia vedete qua ha fatto la quartina perché la divisa ed è il 42 43 74 però solo su venezia con quattro numeri ricordo che l'interno è pagato ma tutte le ruote c'è più di cento volte la posta stessa cosa qua un'altra quartina guardate solo napoli venezia e non ha usato tutte poi addirittura ha scorporato qualche terno che gli è piaciuto ha fatto proprio il terno secco che uscito ieri 42 43 74 napoli venezia ma non pensando a tutte qua addirittura un altro hotel eterno classico in cinquina però non ha messo tutte qua ha fatto anche lambo separato 42 43 morale della storia mi dispiace tanto vincite però non pagate perché giustamente sulla ruota non sono uscite ma erano vincite se giocava pure a tutte come recupero e fa dispiace più di tanto vedere il 42 43 74 un terno secco contro i numeri ragazzi questo per far riflettere poi giustamente se ci mette tra parentesi il diavolo di mezzo quando non è destinato a vincere pazienza però pensiamo anche recupero non dico che per forse dovevate fare i terni scorporati vabbè lasciamo perdere chi è stato che è stato a membriarmi ste bolle ne ha fatta più di una scelta sua però almeno il minimo indispensabile era fare almeno la cinquina e partire dal terno come giusto perché lambo paga poco paga poco non conviene fare paga due volte passa la posta non conviene con cinque numeri a tutti ma il terno ragazzi in cinquina portatelo come recupero per cui pensate a recupero la prima cosa dovete pensare a recupero devo fare qualche programma e fare scuola di lotto no non penso non penso che avete bisogno di queste cose qua non mi reputo nemmeno un maestro non lo sono nel mio piccolo cerco di dispensare consigli e questo è uno uno dei tanti ragazzi usate la testa usate pensate al recupero pensate al recupero almeno il minimo ieri da fare da questo il terno in cinquina tanti mi hanno inviato le bollette vincente ma in questo caso mi dispiace tantissimo per chi mi ha inviato queste bolle vedere queste bolle qua sinceramente tra parentesi male brucia brucia di brutto vedere tutte queste vincite non realizzate perché non si è messo tutte chiudo questo questa parentesi per fare una riflessione perché dovete pensare al recupero però recupero intelligente ragazzi e fatelo fatelo intelligentemente e poi un'ultima cosa se vi è piaciuto questo metodo il metodo napoli venezia sappiate che nel gruppo privato salvo lotto il mio computer sempre al lavoro troverà altri metodi come questi anzi possibilmente con la quaterna che mi va a beccare la quaterna e saranno divulgati e gratuitamente agli appartenenti del gruppo privato salvo lotto se vi piacciono questi meccanismi qui ne troverete a iosa a volontà man mano che ora il computer me li andrà a elaborare non mancherà a me a postarli nel gruppo privato salvo lotto però state attenti perché troppe cose troppe metodiche sono un'arma a doppio taglio non si può seguire di tutto io li divulgo volentieri man mano che li vado a scoprire ma ripeto solo nel gruppo salvo lotto a voi di youtube che dirvi per me ci ho pensato stanotte a questa tecnica per io la reputerei sfaldata sfaldata quella del metodo napoli venezia perché alla fine fine il terno l'ha dato in cinquina l'ha dato ci ho riflettuto perché è un sommativo non è un ciclometrico poi possibilmente domani sarò sarò come dire quello che ho detto mi si ritorcerà contro perché si pare sarà la vincita su napoli venezia però sarò a contraddetto in poche volo però io lo mollo direi consiglio di mollarlo perché ha dato il terno su tutte io pitterei perché dirvi seguite la previsione di palermo quella con l'88 palermo milano 88 lo sapete 48 77 79 e 89 con questo aiuto ragazzi siamo un gruppo privato in questi vari metodi li darò volentieri ma nel gruppo privato salvo lotto se a meno se vedete che vi piacciono questi metodi i quali si stanno si vedono che sono efficaci a meno quelli che sto a cercare io sono efficaci stanno a dare poi ci vuole giustamente la costanza e giocare poco con questo vi saluto è rivolto all'amico o alla mia che mi inviato queste bolle mi dispiace tantissimo che serva da non da lezione però per il proseguo non fate questi errori qua giocate poco però almeno questa la cinquina a meno di con la cinquina tutte la dovevate fare partendo dal terno come recupero perché se per caso ieri invece dal terno scappava la quaterna per tanti che non avete giocato su tutte erano dolori ciao a tutti